Seconda sfida interna consecutiva ad alta tensione per il campo basso che domenica prossima ospiterà all'Avisor Stadium la terza della classe, ovvero il Chieti che naviga a soli tre lunghezze dal vertice della classifica. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni con oltre 4.000 presenze. Da Chieti dovrebbero partire circa 300 spettatori per seguire la squadra neroverde. Con il Montrotondo è stata una partita complicata anche per l'ambiente ma soprattutto perché in questo campionato non ci sono squadre deboli. Sono tutte squadre che vengono a giocarsela per cercare di portare a casa più punti possibili. Credo che noi dobbiamo essere bravi in questo, in fare punti con tutte le squadre dalla prima all'ultima e cercare di dire la nostra in ogni campo. Poi sappiamo che i tifosi sono esigenti ma sappiamo che ci sosterranno sempre e comunque. Credo che la squadra che vincerà il campionato sarà la squadra che avrà più continuità, che riuscirà a rubare più punti possibili in ogni campo. Secondo me è questo. Credo che il gruppo sia fondamentale. Noi abbiamo un grande gruppo e vogliamo lottare in ogni partita. Il campo basso è una squadra importante perché sennò non aveva i punti che ha e credo che noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita senza stare a pensare troppo a loro che comunque sono un'ottima squadra, lo sappiamo. Però noi dobbiamo andare lì a giocarcela fino alla fine con le nostre carte. Con le prime squadre noi abbiamo fatto molti punti e credo sia un fatto mentale e psicologico perché comunque sono le partite più belle da giocare. Però appunto secondo me la squadra che arriverà fino in fondo sarà la squadra che affronterà ogni partita con la mentalità giusta. Quindi per noi deve essere una partita come le altre, andare lì e giocarcela fino alla fine.